...così le ottime caratteristiche del velivolo sulle piste siano in due parti. Ed ecco il distacco, signore e signori, rilevando subito a 150 metri, e questo è l'inizio della presentazione del 1922, pilotato dal comandante di gruppo, il tenente colonnello Cis. Il signore lo spera a ventura in questo del consign del velivolo durante la presentazione, c'è venuto a ritornare sulla pista per l'esiluzione di questa prima manovra verticale. In questo caso il velivolo è un'esiluzione di un velivolo che ci guarda la tianfa, a scopo della scopre c'è una fila sospogata con circa 130 gradi di tempo. E con le luci accese il Giro 122 sta chiudendo verso di voi a 450 kmh per una virata a coltello nella quale la struttura del velivolo è sottomossa a 3,2 G, e in un'esiluzione di un'esiluzione di un'esiluzione di un'esiluzione di un'esiluzione di un'esiluzione. Ecco che arriva signori, l'aerse 45 del mando subversario di un'esiluzione di un'esiluzione di un'esiluzione. E con il titolo con il città a salita e a testa e giù, il mano del rabot signori e signori, il testa entrare in questo tipo di pericolo del velivolo, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.